E' un'esplice, i'esplice e i'esplice. Grazie a tutti. Del tuo popolo pellegrinante del Tempo, con la manietà dei doni e dei carissimi tu scelte e costituisci chi si edifichi la Chiesa, comunità della nuova alleanza, Tempio della tua lode. Per questo mistero di salvezza unite gli angeli e i santi. Del tuo popolo pellegrinante del Tempo, con la manietà dei doni e dei carissimi tu scelte. Del tuo popolo pellegrinante del Tempo, con la manietà dei doni e dei carissimi tu scelte. Del tuo popolo pellegrinante del Tempo, con la manietà dei doni e dei carissimi tu scelte e costituisci chi si edifichi. Del tuo popolo pellegrinante del Tempo, con la manietà dei doni e dei carissimi tu scelte. Del tuo popolo pellegrinante del Tempo, con la manietà dei doni e dei carissimi tu scelte e costituisci chi si edifichi. Del tuo popolo pellegrinante del Tempo, con la manietà dei doni e dei carissimi tu scelte e costituisci chi si edifichi. Del tuo popolo pellegrinante del Tempo, con la manietà dei doni e dei carissimi tu scelte e costituisci chi si edifichi. Del tuo popolo pellegrinante del Tempo, con la manietà dei doni e dei carissimi tu scelte e costituisci chi si edifichi. Del tuo popolo pellegrinante del Tempo, con la manietà dei doni e dei carissimi tu scelte e costituisci chi si edifichi. Deusig مسiniti al Depo 3 del Tempo, con laania dei doni e dei carissimi tu scelte e costituisci chi'. Createvi quindi i dati alla cerdine del Signore. Ecco l'Agnanmo di Dio che toglie i peccati del mondo. Grazie a tutti. 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 La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Grazie a tutti. 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 Tanti auguri. e sappiamo che siamo qui a posto per vivere questo momento di gioia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.